Ciao! Allora, se vedrete la luce cambiare è perché sono di fronte alla finestra e c'è praticamente un temporale, quindi non so, si sta avvicinando un temporale. Comunque, nuovo lancio! Di cosa si tratta? Vabbè, dall'anteprima, ormai, su Instagram, saprete assolutamente di cosa si tratta. Mi è arrivato un messaggio, fatemi togliere, abbassare la suoneria. Si tratta del mio primo prodotto per i capelli. Avendo da tanto tempo i capelli molto lunghi, sono sempre stata attenta a ricercare prodotti che si occupassero di eliminare l'effetto crespo, di lasciarli morbidi, al tatto, lucenti, che per me è una delle cose più importanti. Quando vedo dei capelli lucenti, belli, luminosi, è una gioia per gli occhi. E quindi quando ho iniziato a pensare a Hair Goals, eccoli qui, volevo che fosse tutte queste cose messe insieme. Un prodotto che lasciasse anche un buonissimo profumo sui capelli, ma quando li sposti da una parte all'altra lasci la scia. Volevo che Hair Goals fosse un concentrato, un elisir di bellezza, dedicato soprattutto per i capelli spenti, per i capelli secchi, ma ovviamente per prevenire, per evitare che lo diventino. Volevo che Hair Goals fosse l'ultimo step, proprio prima di uscire, per mantenere più a lungo la piega e ovviamente non evitare l'effetto crespo, l'umidità, che è una delle cose peggiori. I miei capelli con l'umidità, se non metto nulla, diventano veramente una cosa esagerata. E quindi volevo proprio un prodotto che si occupasse di tutte queste cose con una spruzzata. Come si usa? Appunto come ultimo step, prima di uscire, dopo aver fatto lo styling, si spruzza sui capelli. Evitate sempre di spruzzarlo vicino alla radice, per evitare appunto di sovraccaricare, no? Tranne che magari vogliate appunto un effetto come il mio, quindi molto liscio all'amortisia. Però se questo non è il vostro scopo finale, spruzzatelo soprattutto appunto sulla lunghezza o su tutto il capello, senza concentrarvi necessariamente, no, vicino alla radice. Ed ha uno spruzzo molto uniforme. Io che ho i capelli così lunghi, di solito un 5 spruzzate, un 5 spruzzate di solito faccio per coprire tutti i capelli. Anche perché appunto no, è abbastanza largo ed uniforme, è ampio e uniforme il getto, lo spruzzo. Contiene olio di argan, olio di jojoba, proprio per andare a nutrire il capello. Buonissima profumazione vanigliata. E sì, come ho detto, volevo un prodotto che comunque avesse anche un buon profumo, quindi piacevole da usare, ma anche da annusare. Per ciò che riguarda la lucentezza, ho provato talmente tanti prodotti, ragazze, ma talmente tanti prodotti. Alcuni appunto non davano nessuna lucentezza, altri mi appesantivano il capello in una maniera tale che diventava praticamente, no, sembravano umidi, umidicci i capelli. È un prodotto perfetto in generale per disciplinare i capelli, quindi non necessariamente appunto per combattere l'umidità. E tutto questo grazie sempre ad una formula leggerissima. Riuscire a realizzare un prodotto che comunque lascia i capelli leggeri, morbidi, luminosi, per me è stato veramente un bel traguardo. Ed è tutto, non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate. Hair goals, come tutti i miei prodotti, è frutto di anni di esperienze più o meno buone e tanto lavoro in laboratorio. E per questo non smetterò mai di ringraziare le persone che lavorano in laboratorio, in ufficio, in magazzino, tutte quante. Insomma, fanno un lavoro fantastico e insomma ogni tanto mi piace ringraziare perché fanno un lavoro fantastico e ogni tanto mi piace ricordarlo. È tutto, vi mando un grandissimo bacio. Ciao!